Avevi una domanda, fammi la 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 domanda Cos'era la domanda? Avevi una domanda, fammi la domanda Quindi questi rifiuti, sappiamo che questi rifiuti stanno lì Immigrati Podcast Allora, intanto questa è una nuova puntata del nostro podcast E oggi non andremo in un paese Ben sì Allora scusate, Immigrati Podcast Ben sì Ma andremo nell'isola di rifiuti plastici del Pacifico Che è un enorme accumulo di rifiuti galleggiante Composto principalmente da materiali plastici situato nell'oceano Pacifico E non è l'unico tra l'altro perché ce ne sono altre nel mare È una discarica gigante Sì E la sua estensione non è nota con precisione Ma le stime vanno da 700.000 km fino a più di 10 milioni di km quadrati di estensione Vabbè, comunque le valutazioni della Marina degli Stati Uniti stimano che le dimensioni siano un totale di 3 milioni di tonnellate di plastica in quell'isola lì Tra l'altro una chiazza con densità simile di plastica c'è anche nell'oceano Atlantico E molti animali come tartaro e uccelli muoiono a causa di questo inquinamento perché ingeriscono le parti plastiche e gli bucano l'intestino o vengono strozzate Questi depositi sono voluti, è l'uomo che deposita in questa zona i rifiuti oppure accumulano in quelle zone quelli che già ci sono nel mare? No, nessuna delle due Allora, l'accumulo si è formato a partire dagli anni Ottanta A causa dell'inquinamento da parte dell'uomo e dall'azione della corrente oceanica chiamata vortice subtropicale del nord del Pacifico Che ha un movimento a spirale in senso orario, quindi se tu guardi l'immagine della seconda slide Questa qua è la corrente a forma di spirale, vortice comunque, fa un cerchio e prende la forma di un vortice Quella regione dove c'è il vortice è una delle più calme del Pacifico e questo permette l'aggregarsi dei rifiuti Sì, diciamo, è la zona morta, ecco, dove si fermano tutte le quale Ci sono meno correnti Sì, esatto, quindi non c'è riciclo Tipo il mare dei Sargassi, è una zona calma Sargassi Questi eventi però sono utili per determinare i flussi delle correnti oceaniche su scala globale Quindi vedono dove vanno i rifiuti e riescono a calcolare le correnti Tra l'altro, l'esistenza di questa chiazza di immondizia fu predetta in un documento pubblicato nell'88 Pubblicato dal National Oceanic and Atmospheric Administration Però tu hai detto che si è iniziata a formare negli anni Ottanta Sì Però non era ancora visibile e percepibile Esatto, quindi fu predetta perché si è iniziata a formare ma non lo sapevano Quindi ci fu una previsione Ed erano basate sui risultati ottenuti da diversi ricercatori che misuravano le aggregazioni dei materiali plastici nel nord dell'oceano Quindi c'erano degli accumuli però hanno fatto delle previsioni su scala temporale per vedere quanti rifiuti si sarebbero accumulati Però con la stessa dinamica potrebbe anche esserci un accumulo nel Mediterraneo, no? No perché Perché se vogliamo dirlo, alla fine il Mediterraneo è quasi chiuso Ma non c'è proprio perché ci sono meno correnti Le correnti che ci sono nel Mediterraneo guarda che sono forti Vai per esempio alle bocche di Bonifacio Sì no, esatto, ma non sto parlando dove ci sono le correnti Perché ovviamente ci sono le correnti nel Mediterraneo Sto parlando che nel Mediterraneo, essendo comunque un sistema abbastanza chiuso Ci saranno dei punti in cui è fiatto Cioè c'è un motivo per esempio perché da noi la riviera romagnola un po' fa schifino Perché ha un riciclo molto lento Cioè secondo me c'è poco ricircolo e quindi rimangono appunto lì dove Ah piuttosto che esserci un'isola Esatto, non si accumula in un punto preciso Ma schifo ovunque Comunque quest'isola costituisce un nuovo ecosistema Perché si trovano anche agenti potenzialmente patogeni Come batteri del genere vibrio E cosa sono? Sono dei batteri che si nutrono di materie in decomposizione Che occasionalmente possono essere ritrovati come parassiti di alcuni animali Però possono anche attaccare l'uomo Come il vibrio colerae Per farvi un esempio di colera In Italia c'è un'epidemia nel 73 E fu la settima pandemia di colera Nelle aree della Campania, Puglia e Sardegna Nell'area costiere Tra il 20 agosto e il 12 ottobre Vennero diagnosticati 278 casi di colera Che quasi tutti coinvolsero degli uomini adulti Però la maggior parte erano uomini Questa pandemia sembra essere stata causata dal consumo di cozze crude o altri frutti di mare contaminati da questo vibrione Ma pochi giorni dopo, all'inizio dell'emergenza Venne avviata la più grande operazione di profilassi del secondo dopoguerra Nel secondo dopoguerra Che portò alla vaccinazione di circa un milione di napoletani in appena una settimana Ma come? Ma come scusa? Fa ridere la cosa di un milione di napoletani Ma perché? Ma perché essere un napoletani? Perché la maggior parte dei casi ci furono lì Però questo milione di vaccinazioni si raggiunse grazie all'aiuto di siringhe a pistola Sì, delle siringhe a pistola Napoli Scusa, cosa non va? Quest'associazione Le siringhe a pistola Le siringhe, le pistole Per vaccinare i napoletani Ti spara la siringa Ti spara la siringa No, ma raga L'hanno fatto per disincentivare l'utilizzo di pistole con i proiettili No, furono delle pistole Messe a disposizione dalla sesta flotta degli Stati Uniti Avevi una domanda Fammi la domanda Fammi la domanda Cos'era la domanda? Avevi una domanda Quindi questi rifiuti Se sappiamo che questi rifiuti stanno lì E sono tutti accumulati Perché non li possiamo togliere? E magari Chi? Direi io Chi dovrebbe avere l'onere? Saranno acque continentali Infatti No, internazionali Internazionali Saranno acque internazionali Però comunque Stai inquinando il mare E Hai proprio il punto preciso Sai dove sono questi rifiuti Perché non toglierli? Infatti Perché non li paghi tu Posso parlare? Poi non dovresti prima risolvere il problema alla fonte? Cioè è un po' come No certo assolutamente Hai ragione Tu stai risolvendo il problema a monte Non alla fonte Certo però comunque E poi stai dando una soluzione Che dovrebbe prendersi in carico qualcuno Che dovrebbe quindi spendersi soldi Esatto Comunque mi hai fatto una domanda Per farmi andare avanti Nel 2012 Ci fu uno studente di ingegneria Chiamato Bojan Slat Bojan Un olandese E Ha ideato un concept Finalizzato alla pulitura degli oceani Dalla plastica Che si chiama The Ocean Cleanup Che è cominciato nel 2018 In cosa consiste? E Secondo gli studi effettuati dal suo team Questo processo di pulitura Sarebbe Praticamente a costo zero Perché è realizzato Sfruttando l'energia solare L'energia delle correnti marine Mediante L'energia delle correnti marine E mediante il riciclo a terra Dei materiali raccolti Quindi si vede che vanno lì Con delle specie di navi Cioè vanno lì con i retini Gli sfigati che puliscono i parchi No Vanno lì con delle barche però Che funzionano A energia elettrica Solare E Raccolgono La spazzatura La tocca di plastica Cioè quindi fanno quello che ho detto io Però lo fanno con una nave Energia solare In modo tale da Non inquinare Perché ti devi prendere i meriti Io sono disponibile A fare volontariato Per rimuovere questi rifiuti Ma sbaglio Ora quando avremo bisogno Di un parere inutile Ti chiameremo ancora Se questa puntata Arriverà a 50.000 like Organizza una spedizione Per andare a raccogliere Questi rifiuti Bene Ok Adesso che abbiamo detto Cose così inutili Una soluzione secondo me Quella potrebbe essere Allora Siccome Ma io volevo sentire Da Salvatore Perché penso che sia lì per lì Per dirla Allora io ce l'ho Però in questo momento Non mi viene in mente Ok Però ce l'ho Però ce l'ho Però ce l'ho Però ce l'ho Ok Guardano a fondo Ma che stiano Magari a 10 cm Sotto l'acqua Per raccoglierli Ok tu mi stai dicendo Però come raccogliere Devi raccogliere Un quarto di America Tu mi stai dicendo Come raccogli Io sto dicendo Dove metterli Dove metterli Nei centri di stoccaggio Dove poter riciclare la plastica Questo è il primo problema Questo è il primo Di una serie di problemi Il primo Secondo me il problema È capire Di chi è sta roba Chi dovrebbe Ma di chi è sta roba È di tutto il mondo Esatto Se tu butti qualcosa nel mare Si sta roba nel senso Che se io qui in Italia Butto nel mio mare Nel Mediterraneo qualcosa È molto improbabile Che sia quella Del mare del Shagashi Perché le correnti Possono portarla Al di fuori del mare Mediterraneo Sì ma ovviamente Una volta che è nell'oceano Ma immagino che comunque La responsabilità dell'Italia Per esempio Sia molto meno Ma non c'entra di chi È la responsabilità È un problema globale Sì ho capito Ma nel Ho capito Ma comunque Secondo me In un tavolo Non si può pretendere Da tutti lo stesso Identico contributo Per un problema Che è chiaramente Non dovuto A alcune persone Invece dovrebbe essere Lo stesso contributo Da tutti E poi limitare L'utilizzo di plastica Tu pretendi anche Da paesi Che non hanno Sbocco sul mare Questo contributo Beh ma magari Anche a causa loro Che c'è Come fai a dirlo Magari buttano la plastica Nel fiume E il fiume va in mare Non lo so Te lasciamo questo Bisogna intanto capire Chi deve andare A fare questa roba qui Come raccoglierla Come smaltirla Diteci nei commenti E come far sì Che questo fenomeno Non si ripeta mai più Basterebbe fare Una COP26 Utile In questo caso Organizzare delle spedizioni Pagando delle compagnie Stoccare poi Quei rifiuti All'interno Di depositi Che possano raccogliere E riciclare La plastica I materiali plastici Ma io ho un'altra domanda Ma se l'oceano Occupa il 70 Le acque Occupano il 70% Della nostra superficie In realtà Molto di più Però Vabbè ho capito Fai anche 80% In questo caso Se occupa l'80% Perché non lasciarle in mare C'è così tanto spazio Che ce ne facciamo Questo è il tipico ragionamento La testa di cazzo Il tipico ragionamento Da terrone Diciamo che Se io ho tanto spazio in mare Perché Perché non pensiamo A un modo di lasciarle in mare Senza provocare danni Ma perché Non accumularlo in altezza Sul mare Sul mare Perché no Tanto non ci vai Ma scusate Non è una cazzata Noi i rifiuti Li avremmo messi sulla terra In un posto ben specifico Li avremmo concentrati lì Perché non possiamo concentrarli In un punto del mare Ma siccome si tratta In maggioranza Di rifiuti plastici Vanno riciclati Perché rimarranno lì Per migliaia di anni Ma è un discorso diverso Non tutta la plastica Riesce a riciclarla E uccidono gli animali Non tutta la plastica Riesce a riciclarla E in ogni caso Ce n'è in una così grande quantità Che in ogni caso Dovresti metterle In un posto specifico Sulla terra Quindi a questo punto Perché non lasciarle In un punto specifico Del mare Però è curiosa La tua proposta Non è una cosa Non riesco a capire Scusa Perché dovremmo Preferire un posto Sulla terra Dato che siamo sempre In di più Piuttosto che lasciarle O nello spazio O nel mare Ma secondo me Perché lì inquini La fauna che ci sta nel mare Ma anche nella terra Inquineresti No Non è vero Non è vero Perché se tu Stocchi in dei posti Apposta Non inquini Anche sul mare Potresti fare dei posti Apposta Certo Però sulla terra Ci sono già In mare no Quindi Lui Intende costruire Delle isole Di scariche Fatte apposta Isole Di rifiuti Ovviamente Smistati Diferenziati Però isole di rifiuti Perché dovremmo Per forza Metterele sulla terra Se abbiamo a disposizione Ok ma la mia domanda è Una volta che tu hai fatto Una cosa del genere Non è una nuova terra E basta Sì hai creato una nuova terra È un po' come l'Arabia Saudita O i Dubai Che fanno le nuove slot Voi costruite le terre Con della sabbia finta Finta Nel senso pescata da altri punti E quindi fate sorgere Delle isole di sabbia finta Esatto Perché non possiamo far sorgere Delle isole Con i rifiuti Certo infatti Ok però Qui la mia domanda è Ma se abbiamo già La terra disponibile Perché creare un altro posto? Perché la terra Non è abbastanza Ma chi se ne frega Se continua a aumentare La popolazione Ma tu dici La terra non è abbastanza Ma in realtà Non è che stiamo Non è che tipo Io sto attaccato Alle spalle degli altri Non qui almeno No però Cioè nel senso Noi non abbiamo abbastanza posto Per stoccare Tutta questa plastica Sulla terra Ma sì Non credo Il punto non è Quella che c'è adesso In mare Non credo Perché altrimenti Cioè nel senso Non sarebbero Tutte concentrate In alcuni posti Per esempio in Bangladesh Sono concentrate In alcuni posti Semplicemente Perché sono delle Correnti Rivelazione No Stiamo parlando No 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 Stavo guardando La formadondo Perché mi sembrava Che Gible L'avessi interrotta In ogni caso Non c'è nel senso Io sto parlando Di perché le concentriamo Tutte in India E in Non lo so In Bangladesh Ma di che cazzo Stai parlando Perché rifiuti Di concentriare Tutti la sua terra Invece di chiedersi Curiosità sui paesi Perché non ci chiedete Di cosa stiamo parlando E cosa stiamo facendo Ogni paese Ha la sua concentrazione Sì però Sono soprattutto In quei punti Cioè tutti gli scarti Dell'industria tessile E dell'industria A plastica Sono lì Perché Perché noi deleghiamo Le nostre filiere Le nostre filiere Lì Sì ma Noi le concentriamo Tutte lì No Le concentriamo Tutte lì Sulla terra Perché invece Che concentrarle Lì sulla terra Non le concentriamo In un punto Dell'oceano Controllato Ma secondo me Non riesco a capire Secondo me Non viene a costarti Di più Fare un sistema Che sia isolato Il 100% Dall'acqua Ma hai molto più spazio Sull'oceano Che non hai sfruttato In alcun modo Sì ma Il punto è che Sulla terra Aspetta Sulla terra Sai già come stoccare Le cose Ed è molto più facile Spendi molto meno Sì Creare un'oceano Dovresti spendere Prima di tutto risorse Per ideare Un modo per farlo Lo so però A lungo andare Potrebbe essere Una soluzione Se la nostra produzione Industriale Continua a produrre Così tanti rifiuti Onestamente Per me State cagando fuori dal buco La soluzione più logica Sarebbe risolvere Il problema alla radice Perché Quello che abbiamo in mare adesso Non è al momento Un problema gravissimo Perché appunto Come dici tu È l'80% Del Della superficie terrestre Del mare Quindi ce n'è ancora Di acqua pulita Perciò il problema migliore È risolvere il problema Sì il problema migliore La soluzione migliore È risolvere il problema Nella radice Quindi smettere di produrre Tutta sta cazzo di plastica E riciclare Quella che c'è Ma tu non pensi neanche Al fatto che Così tu Probabilmente Scombusseresti La fauna Ma lo fai anche Sulla terra Questo è vero Se tu crei delle Concentrazioni di plastica E di rifiuti tessili Cioè di vestiti In alcuni punti Lo stai già facendo Sulla terra Ma tu cosa pensi? Che prendono la plastica E la buttino sotto terra Qua? No Qua la plastica La prendono E l'ammassano In determinati punti Sì ma la maggior parte È riciclabile In realtà non è vero Perché una volta Che tu hai fatto Una discarica Solitamente Quella zona lì Per la fauna Diventa poi Un posto inabitabile E non ci stanno Infatti la stai modificando Perché prima Era abitato da qualcuno Esatto Però il punto è che Nell'oceano Tu non puoi controllare Quello che ci sta sotto E stai parlando adesso Per di stronzate Perché Ammassarli in mare Lasciali È una puttanata Perché va Allora Intanto Intanto Siediti a non fare L'arrogante del cazzo Che ti smonto in due secondi No no Ti smonto in due secondi Ma stai zitto Non stai un cazzo Non stai un cazzo Non sono cazzo Capra Non stai niente Non stai niente Tu sei un arrogante In questo caso Perché in questo modo Ma stai zitto Sto proponendo Una soluzione Ideale È una soluzione del cazzo Lasciarla in mare Porca puttana Andate a prendere i popcorn Per me è la soluzione curiosa No E non è veramente curiosa Ma sono proprio le soluzioni curiose Quelle che sono uscite Allo Pinterest Ma non vuol dire Che siano le migliori Perché tu comunque Poi vai a inquinare il mare E vai a rischiare Ma inquini la terra comunque Ma chi se ne fotte Ma come a chi se ne fotte Comunque inquini qualcosa Fammi parlare Se tu la lasci in mare Fai morire Un sacco di animali Se la tieni a terra Puoi stoccarla Riciclarla E se Anche in mare potresti farlo Potresti prenderla dal mare E riciclarla Non riesco a capire la differenza Francamente Ma per riciclarla Devi farla a terra Ma perché non andiamo lì Che senso ha costruire Una nuova isola O delle piattaforme Andando a rovinare Anche l'ecosistema Per poter fare L'ecosistema Lo rovinai anche sulla terra Cioè se tu In determinati punti Vai a mettergli Una discarica Stai rovinando La fauna che c'era In quel punto E anche le terre Eventualmente Perché dovete rovinare L'ecosistema oceanico Che cazzo di senso ha Andare a fare delle piattaforme Sta zitto un secondo Ma innanzitutto Chiede adesso Che dovresti rovinarlo Come rovini la terra Tutto il tempo che sto zitto Cazzo Come rovini la terra Potresti rovinare anche l'oceano Quindi se riesci a controllarlo Sulla terra Dovresti riuscire a controllarlo Anche nell'oceano Scappo l'ecosistema È uno stato mentale Lo capisci Ma va a cagare Non esiste l'ecosistema Che senso ha Dover costruire delle piattaforme Quando abbiamo già Delle strutture Predisposte A riciclo E allo stoccaggio Di rifiuti plastici Perché dobbiamo costruire In mare Perché se no Non ci sarebbe Nemmeno il problema Se abbiamo tutte queste strutture Come ci sono finite Lì nel mare Non riesco a capire Perché le persone Lanciano le cose in mare Perché le lanciano in mare Spiegamelo Perché le lanciano in mare Ma secondo te Quelli lì si formano Perché la gente lancia Le cose in mare Anche Secondo te La gente lancia le cose in mare E si forma stisolone Ci sono anche le navi Ci sono i peschereggi Che buttano un sacco di merda Nel mare Perciò State lì Sono stronzate E quindi Loro continuerebbero a farle Anche se tu le porti sulla terra Ciao Giorgio Andichilipo E quindi cosa fai Le lasci in mare? No Trovo un modo Per riuscire a lasciarlo in mare Facendo meno danni possibili No Piuttosto costruisci una piattaforma Non la lasci in mare Ma perché? Piuttosto costruisci una piattaforma Che senso ha Dover costruire delle piattaforme? Piuttosto costruisci una piattaforma Che senso ha Dover costruire delle piattaforme? Allora Non pensi che sia uno sbattimento Prenderla dal mare Spostarla sulla terra Con la Per l'altro Col continuo problema Del fatto che Noi stiamo crescendo In numero In numero Siamo una popolazione Sempre più efficienti Non abbiamo spazio Tant'è che si costruiscono i grattacieli Per un motivo Perché non c'è più spazio Orizzontale Quindi dobbiamo costruirlo verticale E qualcuno ha chiesto di partecipare Perché dovremmo costruire Ste piattaforme? Magari Nel senso concentrarle Tutti in una zona Che è poco abitata Dove magari ci potrebbero essere Dei villaggi Perché dovremmo fare questa cosa Quando il mare Ricopre l'80% Della nostra superficie E potremmo pensare A un modo Per lasciarli lì Senza far danni Ma in ogni caso Potresti prendere Una piattaforma Che non si costruiscono Ci sono anche Quelle fisse E quelle mobili Potresti usare Una piattaforma mobile E raccoglierli Stiamo parlando Se è giusto o meno Fare dei punti Di raccolta Nel mare Per riciclare La plastica No lui la vorrebbe Lasciare lì proprio Ma no La puoi anche riciclare Io non ho detto questo Però lui non ha detto All'istua terra In principio stiamo parlando Delle grandi isole Di plastica Che si trovano Nell'oceano E il dibattito sta Tra Salvatore E Scaffo Salvatore sostiene Anzi no Scaffo sostiene che Dovremmo toglierle Dall'oceano La plastica Guarda Ma ti dico anche Una cosa un po' più Mentre Salvatore dice No Teniamo lì Coesi è più semplice Da gestire Abbiamo più spazio Ma in ogni caso Ti posso dire anche Assolutamente adesso Ma se noi avessimo Direttamente delle piattaforme mobili Cioè delle navi Che hanno dei macchinari Che consentono di riciclare La plastica E lo fanno direttamente in mare Quello delle piattaforme Te l'ho detto io E sono d'accordo su questo Ma non di lasciarla lì A galleggiare Sì ma è ovvio Che una nave Non riesce E anche sulla terra Non riusciamo a riciclare Tutta quella plastica Dobbiamo farlo gradualmente Quindi intanto la lasci lì E poi vai lì A prenderla per riciclare Non è che la prendi da lì La sposti sulla terra L'accumuli sulla terra E poi la ricicli Lasciarla lì in un posto Che può spostarsi La devi delimitare Sì ma se si è concentrata Significa che molto probabilmente È lì che va a confluire tutta Quindi non c'è bisogno nemmeno Di sta piattaforma Che la delimiti Se no non si sarebbe Nemmeno concentrato Sì ma la piattaforma Serve per tirarla su Non per delimitarla Ma non sta dicendo Mi sta dicendo di creare Le piattaforme di stoccaggio No quello lo sto dicendo io Perché dai ascolta Non mettere le parole in bocca a lui Perché quello delle piattaforme L'ho detto io Ma tu hai detto Delle piattaforme che la prendono E la spostano sulla terra Allora non è che perché io dico Che è una piattaforma Ho detto la tua stessa cosa Ho detto io voglio una nave Che mi riesce a riciclare Le cose direttamente in mare Non è che ho detto La tua stessa cosa Io ti ho detto Se dobbiamo farlo nel mare Usiamo delle piattaforme E c'è la registrazione No piuttosto costruisci una piattaforma Non la lasci in mare Lì a galleggiare Ma perché Per piattaforma si intende Una struttura che galleggia O è fissa nel mare E sta lì Non è che porta a terra Quello intendo per piattaforma Ma l'idea di lasciarla lì in mare Mi fa incazzare Ma devi lasciarla lì in mare Mentre fai sta cosa Non ce la fai a riciclarla tutta Per me è possibile Ma cosa è possibile Non ce la fai a portarla tutta Cioè allora C'è da dire che Aspetta Ora come ora Svuotare queste isole Sarebbe troppo elevato Non si capisce quello che dici Sarebbe più semplice Oddio scappo Scaffardi Basta la puntata è finita No Attenzione Stiamo sciogliendo Immigrati Podcast Quindi la conclusione qual è? Se la devi lasciar lì Utilizza delle piattaforme per riciclarla E sono d'accordo Magari Cioè mi va anche bene riciclarla in mare Ma con delle piattaforme che Non piattaforme che la delimitino Con delle piattaforme che la riciclino E con delle strutture Come fanno col petrolio Che possano delimitare la zona Ovviamente è troppo grande Quindi magari suddividerla in gruppi Per me Mi ha convinto Salvatore Se posso essere sincero Sul fatto di Non Farle riconcentrare di nuovo Ma in senso che Anziché riportare la spazzatura Dall'oceano A terra Tanto vale trattarla sull'oceano E fare in modo che non si raggruppi più No no anzi Meglio se si raggruppa Meglio se si raggruppa perché ce l'hai già lì E sai già dove prenderla No nel senso no Cerchiamo di evitare Il meno possibile Cerchiamo di evitare la dispersione Di questi materiali Questo è ovvio Ma questo è ovvio Se si disperda Intanto abbiamo questi punti La lasci lì Sai già dove è Per riciclarla Quello che stavo pensando È creare appositamente Una sorta di nave Una nave cargo gigantesca Che abbia soprattutto L'attrezzatura necessaria A far sì che si ricicli la plastica Quindi tu vai là E te la ricicli lì sul momento Per dover di cronaca Diciamo che questa idea è brevettata Sì ma Senza andare lì Prenderla Portarla sulla terra E spendere già Fra viaggio andato e ritorno Vabbè L'avresti comunque dovuto fare Se ricicli la plastica In più Costo del camion Che te le porti In un posto ben specifico E te le stocca E te le tieni lì ferme E tra l'altro Costa a tenere ferme Se la ricicli al porto Non ti serve nessun camion Però eh Se la ricicli al porto Però comunque dovresti fare Sempre avanti e indietro Perché dovresti fare carico Scarico Carico Scarico Invece in questo modo Se la ricicli già direttamente sopra Riesi a fare meno viaggio Sì ma una volta che la ricicli sopra Devi portarla comunque indietro Cioè comunque Molto probabilmente La plastica riciclata In percentuale di massa È più compatta Rispetto a quella dei rifiuti Sì Secondo me Come essere umani Dovevamo capire il fatto che È inevitabile Che noi inquineremo Quindi Piuttosto che Di non cercare Di inquinare al 100% Che è una missione impossibile Dato che Qualsiasi cosa faccia Cioè Anche le mucche Inquinano scoreggiando Ma non per questo Le ammazziamo Cioè sì Le ammazziamo È vero Scusate Le ammazziamo Attenzione Ma non per questo Che cazzo ne so È a causa degli allevamenti intensivi Se le mucche Scoreggiando inquinano Perché ce ne sono tanti Esatto Quindi è colpa nostra Però In sé per sé Loro inquinano Ma non è che Questo per dire che Non esiste niente Che non inquina Sì ma è sempre colpa dell'uomo È sempre colpa dell'uomo Cerchiamo di inquinare Il meno possibile E se è una soluzione È lasciarle galleggiare lì Limitate Però cercando anche Di lavorarci sopra Perché no Io sono d'accordo con Sa Penso che Esprimi un'auto-opinione Senza dover Darla ragione a qualcuno L'ho detto durante la puntata La mia opinione Secondo me Dovremmo trovare Come dicevo Potremmo anche trovare Di microorganismi Che cercano di Non risolvere il problema Ma comunque di aiutare A consumare questi rifiuti Primo Secondo Come hai detto Sa Non ha senso Portarli sulla terra Perché comunque Sarebbe un costo Molto oneroso E non avrebbe senso Quindi bisogna trovare Un modo per riuscire A riciclarla O comunque Ridurne la quantità Lì dov'è Allora Le vostre soluzioni Sono tutte quante ottime Però a me piace ragionare Dal punto di vista problematico Cioè che ogni cosa Ogni soluzione che voi dite Ha una serie di problemi Da risolvere Chi mette i soldi Chi dovrebbe metterne Di più Chi deve metterne di meno Quale compagnie dovrebbero Cioè dovremmo fare Delle compagnie internazionali Che partono Delle navi Che fanno sta roba qui Ci saranno Le navi cargo È effettivamente possibile Fare delle centrali Di riciclo Su una nave Su una piattaforma Non su una nave Eh? Su una piattaforma Non su una nave Non lo puoi fare Su una nave Ci sono delle navi Nastrodontiche Io ho detto Su una piattaforma Non su una nave Ci sono le piattaforme mobili Che si spostano Quelle per il petrolio È una nave per me No Sono piattaforme mobili Non sono navi Scusa È una nave Se si sposta nel mare È una nave No Sono delle piattaforme motorizzate Che si spostano Non sono delle cazzo di navi Sono piattaforme motorizzate Che si spostano Tipo hanno dei piedini Sul fondare marino Fanno così Hanno delle eliche Sono delle navi? Non sono delle navi Sono tecnicamente Delle navi No Sono delle imbarcazioni Tecnicamente Sono delle piattaforme motorizzate Come quelle che usano Per l'estrazione del petrolio Ci sono delle piattaforme motorizzate Che non sono delle fottutissime navi Perché per essere una nave Devi rispettare certi standard Vabbè ma il concetto Che volevo esprimere io Era quello Vabbè ma te lascendo questo È fattibile costruire Una centrale di riciclo Su una piattaforma mobile? Beh abbiamo le Le trivelle per estrarre il petrolio Vuoi che non riescano a costruire Sì ma le trivelle per estrarre il petrolio Bucano e straggono Non è che hanno bisogno Di un sistema così complesso Penso che comunque Una centrale che ricicla Sia molto più complessa Di una trivella che buca E perfora Basta poter ingegnerizzare Il sistema E utilizzare delle piattaforme Che magari si possano unire In loco Tutti come dei moduli Sì come dei moduli E al loro interno Abbiano queste centrali Di riciclaio Ok va bene Un altro problema Ma una volta che la plastica È stata riciclata Questa plastica qui A chi andrà riciclata? Verrà divisa Tra i paesi Che hanno contribuito? Faremo una parte 2 Di questo video Approfondendo Se vi interessa No questa è la parte 1 La parte 5 Esatto Basta 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 Molly Sì Dai finalmente Finalmente Ho chiuso il podcast Finalmente Alleluia Adesso Per festeggiare Adorazioni A go go Bira Paparappo Immigrati podcast Basta La puntata è finita Grazie a tutti